Bentornati nel canale Viaggio Emozionale. Oggi faremo un breve viaggio nel mondo equino e in particolare di alcune specie equine locali e autoctone minacciate di estinzione. Asini e cavalli, animali venerati per il loro supporto nella vita di tutti i giorni, sono stati per questo resi protagonisti delle sfilate in costume di tutte le feste paesane. Natura e tradizione non possono fare a meno di loro. Il patrimonio naturalistico della nostra isola costituisce una delle più importanti risorse che il mondo ci invidia. Varie specie animali differenziano la Sardegna dal continente, basti ricordare l'unicità del mufflone, del griffone, dell'avvoltoio nero, della pernice rossa e della testugine terrestre. E purtroppo sono ormai estinti la foca monaca, il lupo, l'orso e la talpa. Alcune specie locali e autoctone delle popolazioni equine riconosciute di eccezionale valore naturalistico, assolutamente uniche e purtroppo gravemente minacciate da estinzione, sono il cavallino selvaggio della giara, l'asino sardo e l'asino bianco dell'asinara. Le tre specie equine autoctone minacciate di estinzione sono tutte specie esistenti esclusivamente nella Sardegna e riconosciute in Italia tra i 14 genotipi di razze equina e asinina riconducibili a gruppi etnici locali. Tipico della Sardegna e morfologicamente differente rispetto a quello continentale è l'asinello sardo, mentre sono assolutamente unici l'asinello bianco dell'asinara e il cavallino selvatico della giara di gesturi. L'asino sardo è un animale a prima vista simile a un poni, alto al garese e solo 130 centimetri dal temperamento rustico che gli permette di adattarsi anche alle situazioni più estreme. Usato fino agli anni 50 per la trebbiatura, la sua provenienza è al centro di molti studi. La presenza della specie nell'isola è antichissima, furono i sardo punici ad incrementarne l'allevamento con finalità agricole e di trasporto. Secondo altri autori avrebbe origini neolitiche o legate all'importazione fenicia, per altri di provenienza nordafricana e infine per altri ancora a forse un'origine asiatica, che supporterebbe anche alcune teorie legate ai flussi migratori dei popoli che hanno abitato la Sardegna nell'antichità. La riga a mulina crociata, il mantello sorcino più chiaro sull'addome, sulle orecchie e sul muso, le dimensioni sensibilmente inferiori permettono di distinguerlo dalle altre razze asinine italiane. Denominazioni differenti sono state date all'asino sardo a seconda delle zone, burricu nelle regioni meridionali di probabile origine spagnola, poledu o ainu usati in barbaggia o nel goceano, molente, la dicitura maggiormente diffusa nell'isola e legata all'utilizzo della macina del grano. La molitura si svolgeva infatti all'interno di abitazioni rurali, bendando l'animale e ricoprendolo con un panno per evitare che il bastone collegato alla macina gli provocasse delle ferite. In Sardegna, fino agli anni 60, l'asino era un elemento prezioso per la nostra società contadina, perché si prestava ai lavori più disparati. Portava pesi, girava la mola per macinare, sostituiva il bue nel lavoro nei campi e il cavallo per cavalcare e trenare i carretti. Non possederne almeno uno, era una grave mancanza. Gli è morto l'asino, si diceva, per indicare che a qualcuno era successa una terribile disgrazia. Poi l'agricoltura industriale ha trasformato il mondo rurale e l'asino è stato sostituito dall'appe. Nel giro di pochi decenni gli asini sardi sono passati nella nostra isola da molte decine di migliaia a poche centinaia, rischiando quindi l'estinzione. Nel luglio del 1990 è stato istituito presso l'Associazione Italiana Allevatori il registro anagrafico delle razze e popolazioni equine, riconducibili a gruppi etnici locali a limitata diffusione ed in via di estinzione. È stato approvato il relativo disciplinare. Con successivo decreto ministeriale, nel luglio del 1995 sono state approvate alcune modifiche al disciplinare e le relative norme tecniche. Le popolazioni cavalline considerate in Italia sono nove, tra le quali il cavallino della giara, mentre le asinine sono cinque, di cui due sono in Sardegna, l'asino sardo e l'asino bianco dell'asinara. Per le tre specie equine asinine a rischio di estinzione, i dati rilevati relativi all'anno 2021 riportano i seguenti risultati. Per quanto riguarda il cavallino della giara, nella provincia di Cagliari si trovano cinquecentocinquanta esemplari. Per quanto riguarda l'asino sardo, nella provincia di Cagliari gli esemplari sono centosettantacinque, nella provincia di Sassari sono novanta, nella provincia di Nuoro duecentoventitré e nella provincia di Orissano 91. L'asino bianco dell'asinara presente nella provincia di Sassari conta 130 esemplari. L'obiettivo è soprattutto quello della diffusione di una cultura che consenta di ottenere degli animali sani e ben curati, di promuoverne la vendita certificata sulla base della provenienza, dell'età, dello stato di salute e di altre indicazioni, di svilupparne l'utilizzo nei parchi e nelle aree protette, di impedire che l'eventuale carico sopportato risulti superiore alle effettive capacità di ogni animale e di assicurarne una fine onorevole. L'asino è un animale poco prolifico, al termine di una lunga gestazione di 12 mesi nasce un solo puledrino, i parti gemellari sono rarissimi. Per poter tenere un asino basta possedere un ettaro di terreno a pascolo, mantenerlo costa poco, si accontenta di un po' di fieno e non occorre che sia di primissima qualità e di molta acqua, dai 15 ai 30 litri al giorno, purché pulitissima. Polveri, foglie e turbidezza le la fanno rifiutare, anche se sta letteralmente morendo di sette. Gli piace di tanto in tanto rotolarsi nella sabbia o comunque in qualcosa di polveroso, come la cenere del cammino. In cambio, è utilissimo per ripulire i boschi. L'asinello bianco dell'asinara rischia oggi di scomparire proprio per uno squilibrio dell'ecosistema. L'eccessiva presenza della capra selvatica nell'isola dell'asinara fa sì che non si abbia sufficiente alimentazione. Nell'intento di tutelare, salvaguardare e promuovere effettivamente la diffusione delle tre specie a rischio di estinzione, i loro utilizzi da considerarsi di grande rilievo sono i seguenti. Onoterapia e ipoterapia. Sfruttando le caratteristiche fisiche e comportamentali dell'asinello sardo, di taglia ridotta, morbido da toccare e accarezzare, paziente, lento nei movimenti ed incline alle andature monotone e controllate, e del cavallino della giara, a statura molto ridotta, con altezza media di centimetri 120, è possibile offrire preziosi servizi non solo per la riabilitazione e cura degli handicap, ma soprattutto a favore di quelle persone, in particolare bambini, che avvertono l'esigenza di superare i problemi di relazione e socializzazione attinenti alla sfera affettiva ed emozionale, con risultati che compaiono velocemente e possono essere documentati. L'onoterapia e l'ipoterapia offrono programmi per l'introduzione graduale e sistematica di animali selezionati ed addestratti nelle immediate vicinanze di un individuo o di gruppi di individui, per scopi terapeutici, e permettono al bambino o all'adulto di sviluppare la personalità, le attività cognitive, la mobilità, le funzioni della mano, il linguaggio e la comunicazione, attraverso un tipo di rapporto rassicurante che supera lo stress continuo della valutazione, del giudizio e della contraddizione. Utilizzo agroturistico Le tre specie equine presentano una grande potenzialità per favorire la crescita di attività turistiche, soprattutto nelle zone interne rivolte ai bambini e agli adolescenti. Le escursioni in groppa ai cavallini della giara o agli asini possono essere molto attrattive, partendo da percorsi semplici anche lungo le spiagge, fino ad arrivare a percorsi più impegnativi, ma sempre molto lenti e adatti a creare un giusto rapporto con l'animale e la natura. Promozione del consumo di latte d'asina per usi alimentari, terapeutici e dietetici e nel settore della cosmesi. Il latte vaccino è l'alimento più frequentemente responsabile di allergie gastrointestinali. La ricerca scientifica ha dimostrato che il latte d'asina è l'alimento di origine animale con le caratteristiche organolettiche più vicine al latte materno e può costituire il trattamento più indicato in bambini con allergie alimentari nei primi mesi di vita, che spesso non rispondono ad altre terapie. Alcuni componenti presenti nel latte d'asina sono di grande utilizzo anche nel settore della cosmesi. Un altro utilizzo è il trekking someggiato. È un modo nuovo o quanto antico di passeggiare verso mette che raggiungono il cuore delle emozioni. Passeggiare e camminare nella lentezza dei movimenti del corpo e del pensiero. Camminare laddove le osservazioni si intersecano e si uniscono formando pulsazioni, in cui si sprigiona la positività non di un andare per arrivare, ma di un procedere per scoprire in ogni momento le bellezze intorno. Camminare a fianco di un asino, di un cavallino della giara, è una sensazione che riporta indietro nel tempo. Camminare con l'asino è impresso nell'uomo dai tempi dei primi spostamenti, da quando l'animale, da sempre al suo fianco, ha vissuto i primi passi dell'umanità. L'asino, umile e sincero, ma è traditore, aspetta paziente l'inizio del cammino, affianca e aiuta. Attualmente, però, la minaccia di estinzione dell'asino sardo sembrerebbe scongiurata, grazie a diversi allevatori e ad aziende impegnate nella conservazione di questa razza. Nel territorio di Urtueri, in provincia di Nuoro, nel parco naturale di Mui Muscas, si possono osservare diverse decine di asinelli e altre specie di fauna sarda. Come fosse un debito di riconoscenza, una comunità protegge una razza animale, che prima dell'avvento delle macchine agricole ha lavorato per secoli fianco a fianco con l'uomo. Qui vengono accuditi una cinquantina di esemplari dei poco più di mille censitti sull'isola. Negli anni Sessanta erano 40.000. Quindi, per scongiurare l'estinzione di un simbolo della regione del Mandrolisai, nel 1994 il Comune ha deciso di dedicare ai fedeli animali 55 ettari coperti di vignetti, leci e sugherette. Il parco Mui Muscas è frequentato dalle scolaresche e dai turisti che si spingono nella parte interna della Sardegna. La Sardegna, terra natia di molti cavalieri e fantini che hanno fatto la fortuna dell'equitazione italiana e delle contrade senesi al palio, oltre agli asini ha una grande ricchezza equina. Dal cavallo anglo-arabo sardo, apprezzato in ambito sportivo, al cavallino dell'altopiano della Giora. La conformazione del territorio ha limitato lo sconfinamento di quest'ultimo, permettendo la conservazione di caratteristiche genetiche uniche. E tra le razze più antiche dell'isola ci sono i cavalli del Sarcidano, curati dal Comune di Laconi insieme ad alcune famiglie locali. Inoltre, a Itireddu, in provincia di Sassari, da aprile del 2022, ha deputato la prima mostra regionale dell'asino sardo, organizzata dall'Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine e Asinine Italiane, dall'Associazione Allevatori della Regione Sardegna, dal Comune di Itireddu e dall'Associazione Ippica e Tiredese. Nell'occasione sono stati portati mostra asini di razza sarda da tutta l'isola, iscritti al libro genealogico per la conservazione delle razze equine e asinine a limitata diffusione. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video e l'argomento trattato, iscrivetevi e mettete un like, condividete e per ulteriori info e approfondimenti utilizzate il contatto mail in descrizione. Un caro saluto, viaggiatori emozionali!